No! Trovi il link in descrizione. Posso usare e prendere una decisione? Io ho scelto di usare una... Eh, vabbè! Daremo tempo a Chiara di ravvedersi, di cotà l'affermazione, oserei dire, furviante, ma prima di far arrivare la verità, Chiara, andiamo a vedere i nickname che avete scelto per noi. Dusclops, grazie a Zanna96, diviene Torrone, che tra l'altro mi piace un sacco il Torrone, per l'animazione finale di Luci Soluro che scende come il Dio del Tuono. Ah, quindi non è il Torrone da mangiare, è Tor, il Dio Torrone. E infatti c'è un H? Torrone, come si pronuncia Tor? Tor? Ok, Torrone. E allora, scambiando l'ordine degli addendi, il risultato è il palle. Grimmsnarl diviene Failed VGC, scelto da Copybook24 perché ha fatto la giocata della vita mettendo in combo Terremoto con l'abilità di Mesprit che è Levitazione. Peccato che anche gli avversari fossero tutti immuni, è stato bellissimo il turno in cui non è successo niente. Mesprit diviene poi Zapdos, scelto da Nicolas Rebecchi perché ha cambiato posto con all'iSwitch come fa Zapdos in grafica ogni settimana. Inteleon diviene Strada, scelto da Pietro Grimaldi perché era Nostradam... era Nostradamus ed è stato asfaltato, quindi ora è Nostrada, la nostra strada. Machamp diviene poi Nintels, scelto da Moggy perché come le sue due forme, Canto e Alora, ha suettato il giorno di sole e la grandine. Che bello, Moggy, questo nickname neutrale, senza pigliare per il culo nessuno. Perché ho usato questi due mossi, bravo ragazzo, si è fatto valere, quindi i boss si chiamano Nintels, ma ti stringo la mamma. Polito, infine è Death Action, scelto da Luisa Aiello perché prima era live, ma poi... E quelle cose che Bill da risate dot nel tempo. Il commento di risposta a questo commento era, ho riso più del tutto. Nella mia squadra Miltank diventa, ah, Scott, scelto da Mr. E perché è stata sconfitta dal fuoco pugno di Dusclops. Strabello, Ken. Alcremi diventa, è peggio perché si chiamava Emelio. E questa è una cosa che avete suggerito in tanti, perché appunto si chiamava Emelio ma è durata un turno. Bella lì. Azelf diventa poi pressione, scelta da Simone Piatti perché nessuno ha suggerito nomi per lui e quindi mi sentivo in dovere. In più Chiara ha chiesto un Pokémon compressione e così ce l'ha. Doggy Kiss diventa falso finale, scelto da Giovanni Composto perché con ripresa ci ha illuso che la lotta sarebbe finita in suo favore. E invece... Stai composto comunque, stai composto. Hitmonchan diventa Mimiem first, scelto da Omar Cassini perché ha usato molte mosse fisiche dall'alto base power. Ma come tutti noi sappiamo, Drag is not a contact spot. Ma è quella che prendeva l'altra Drag? Eh, proprio lei, proprio lei. Sì, 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 ok, ok. Infine, Polivrat diventa Sunny, scelto da Diego Laione perché è stato addormentato. E non dico altro. Così non spoileriamo. Chi sa sa. Bene, signori, direi che siamo pronti e se Drag is not a contact spot, Pokémon it is. E quindi, there we go. Ci siamo, signori, la musica di Ginepro riecheggia all'interno del tronco nostro. Ginepro. Eh, ho fatto la battuta nella battuta, mamma mia, una matriosca di sapere, di conoscenza e di sapienza che viene investita da Mimiem first che mette pressione ed effettivamente è vero. Io invece ho il torrone strada, è una strada enorme fatta di candies. Di torrone. Esatto, che porta to the Candy Mountain. The Candy Mountain, Charlie! The Candy Mountain! Il pressione si prepara, mette la prescia, non troppa, e va di pioggia dance. In realtà la subisce perché c'è Dusclops, però va bene. Il torrone si prepara, incarta il ditone e va di multiattacco. Non è stab, ma è una 120 bp o 100 bp. Beh, è il danno. Alcrit. Canali come YouTube e la TV stanno, praticamente danno la percezione sbagliata degli attacchi multipli della difesa da strada. Pressione si prepara, cerca di medicarsi, oh shite, questa cosa farà malissimo dovunque arriva. Ok, arriva nella slot di Intellion, penso possa shottare. Strada è pronto, flette il braccio e va di colpo catrame. Bassa velocità e aggiunge la debolezza al fuoco, ma in realtà credo che pressione sia in range di kill di tante cose. Mimiem first si prepara 1-2, 1-2 e va di pari attacco. Mi fa un favore, mi fa un favore, ci dividiamo l'attacco, probabilmente cresce l'attacco di Duskloops e diminuisce quello di Hitmonge. Pressione è carico, strizza le code e va di... Boia ragazzi, incazzatissimo. Madonna anche questa che tega. This was the first reaction, shock. Torrone si prepara, agita l'occhietto e va di Perfob. Non è male, perché è super effic... boia crit? No. Ah, perché abbiamo fatto il pari attacco, giusto. Pressione si prepara, agita gli occhi gialli e va di... Elettro impennato, ragazzi è pericolosissimo, sta facendo solo attacchi speciali. Questo è un one shot, eh quasi. Vabbè, vabbè, ci stiamo menando forte. Beh, mi piace. Mimiem first si prepara, le spalline vegetiche sanno la loro. E si gode ragazzi, si gode ragazzi. Godo come un riccio. E si gode, si gode. Mi sa che mi muore in te Leon. E invece la tiene ragazzi, e invece la tiene. La tengono tutti bene o male, tranne che lui. Schifo. Torrone si prepara, gira la frangetta. E va di incendio. Penso possa essere una kill, perché è anche debole al fuoco adesso. Bella raga. Combo con colpo catrame. Doppia kill in un turno, entrambe fatte da noi. Nessuno si è col... Divinazione. Entra in campo falso finale. Mi fa molta paura, come Pokémon. Noi mandiamo Zapdos. Chiaramente uno Zapdos. Chiaramente in campo è peggio. Siamo comunque in vantaggio numerico, quindi tranquilli. Zapdos si prepara. Sta alla centrale elettrica. E va di turbine. No, turbine, perché sta alla centrale elettrica. Il collegamento della turbina avviene con la pompa con un unico cavo dalla pompa. Ma andiamo a vedere ora la pompa. Entra in campo a scotta. Smette di piovere. Tra le altre cose. Falso finale. Si prepara. Agita i piedini all'insù. E va di... Non vogliono stare in campo i tuoi ragazzi. Cioè... Sciaffolano. Adesso rientra è peggio. Ah no, forse puoi scegliere tu. Rientra in campo è peggio. Va bene. Tutto va bene. Ascolta. Si prepara. Strizza il mammellame. Vento in coda. La velocità è dalla tua. A un certo punto bisogna menassi in questo gioco. L'è peggio. L'è peggio. Si prepara. Agita il ditone suo. E va di velo denti. Dio buono se mi avevo veleni. Io folli in cazzo. Angelo. 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 Torrone si prepara. Chiude gli occhi. E va di... Veleno denti. La giustezza... La giustezza della cosa. La giustezza della cosa. Ma... Paffa. Eh però per me è super efficace. Ma che vuol dire. Zapdos è pronto. Agita l'elettricità. E va di... E' il flamma peit. Questo fa male. Questo fa male. Questo fa male. Questo fa male. Bene così. Torrone è pronto. Impone. La sua presenza. E Gesù bambino. Che cazzo fai? Ragazzi perché dobbiamo perderla? Partita bene. Che milord Giovannone. Ma un cretino. Ascolta si prepara. Agita il ditone. E va di furtive. Bah. Super efficace tutti e due. Questa è una bella tega. Zapdos si prepara. Agita la forma sinno. E va di roccio rapida. Attenzione. L'attacco di Mesprit non dovrebbe essere malissimo. Un buon dannetto. La velocità di un atleta dipende da vari fattori. Ma più di tutto da Usain Bolt. Torrone è pronto. Toglie le bende. E le usa per fare foglia magica. Per tirarle. Guardate le bende. Vengono tirate. Bel focus. Bel focus. Bello memo. Ascolta si prepara. E va di semitraglia. Potrebbe essere una kill. Se fai abbastanza hit. Ok no. Su Giovanone no. Su Mesprit probabilmente si. Zapdos va di dispetto. Toglie i pp. Che fa? E toglie 4 pp mi pare. Tra i 3 i 4 pp. O forse fixer 4. Non mi ricordo mai. Torrone è pronto. Agita il frangiame. E va di lava sbuffi lux. Non colpisce anche a Mesprit vero? Colpisce anche a Mesprit. Raga. Easy. Siamo pari. E' vero che Giovanone ha 10 ps. E' al crimino. Però. Tranqui. Tranqui. E' tutto fatto per lo show ragazzi. Fail vg si. Si prepara. Agita la chioma. E per lo show va di pistolacqua. Fa una mossa. Banale. E scontata. Oserei dire anche inefficace. Solo per farvi divertire. Così poi ascolta. Si prepara. Agita la codina nera. E va a sua volta di. Tropicalcio. Che comunque non fa molto. Mi dispiace per Giovanone che mi ha furato. E peggio si prepara. Agita il di torre. Va di. Monito. Esce di nuovo ragazzi. Abbasso attacco. Attacco speciale. Va via. Di nuovo. Per la seconda volta. Ragazzi. Io sto giocando vg si. Contra insinero. Oggi. Cioè. Entrano. Escono. Monito. Io. Voi di forza brutta. Con Ninetills. Ragazzi. Non vi fate. Prendere. È un Ninetills. Ok. L'apparenza. L'abito non fa il monaco. E questo è un Ninetills. Non vi preoccupate. Fail vg si. Si prepara. Apre un account twitter. E va di. Gran merda. Tendenzialmente. Sono dal raggio. Ma. Vediamo. Qualcosa farà. Ascotta. È pronta. Spreme un po' di latte. E va di. Geo forza. Anche questa. Non dovrebbe essere una mossa. Particolarmente. Efficace. Falso finale. Si prepara. Sorride. Alle avversità. Va di. Dio madonna. Anche il dot. Ragazzi. Ma che sta succedendo. Ma era partita bene. Ma era partita bene. Ma poi. Ninetills. Ninetills. Se stai pensando. Che sia difficile. Se stai pensando. Che non sia fatto per te. Se stai. Pensando. Che forse. Hai sbagliato. Iniziare. Ti prego. Non mollare. C'è un motivo. Per cui hai iniziato. C'è un motivo. Molto valido. E quel motivo. Devi ricordarti. Perché hai iniziato. A fare quello che. Hai fatto. Ma perché. Perché fa schifo. No. Perché è un coglione. Vabbè. Io. Ragazzi. Era un vantaggio. Mi manca due po'. Quanti ce n'hai che 40. Ma fa. Una quattro. Ne ho altri due. Ma che ne c'è. Ce ne hai quattro. In tutto. Infatti ho detto altri due. Ma che modo è di contare. Ne ho altri due. Ti ho chiesti quanti ne hai. Vedi quelli due che ho in campo. Cazzo. Sono lì. Detection. Si prepara. Eh. Fulmini bono. Su toghi. Bisogna prendere i targhi giusti qui eh. Par. Almeno par. E qualcosa cazzo. Guarda. Uh. Una cosa. Focus su milita. Oh. Una cosa. Una. Falso finale. Si prepara. Flette le alette. Di pollo. E va di gas corrosivo. E mi toglie. Le bacche. Giusto. Perché. Oltre a me. Si. Vabbè. Ma te c'hai altri 40 pokemon. Questi sono i miei ultimi due. Quindi mi toglie anche la speranza di vincere. Perché. Ma io ho praticamente finito i pipì. Perché. Me ne tolti quattro. Ah si. Bella raga. Giga impact. Sulla mucca. Sulla mucca. Dobbiamo focussare la mucca. Devo sta zitto. Ragazzi se si fa. Ora però si deve ricaricare. Giga impact. Per chi ha iniziato. Da fare quello che. Hai fatto. Per chi ha iniziato. Quel percorso. Perché. Solamente ricordando quello che. Hai fatto. Solamente ricordando il motivo. Per cui l'hai fatto. Potrei ritornare. Potrei ritornare. L'energia. Ci posso credere. Ci posso credere. Due volte. Failed VGC. Tu hai ragione. Fa proprio schifo. Vai. Etere lama. Faccio. Potremmo farti intennare. Ma tanto. Figuriamoci. Figuriamoci. Ok. Dai. Fammi vedere quanto mi fai. Un botto. Però dai. Probabilmente muoiono prima. E reggo. Tre. Tre massimo. È esponenziale. No no. Sempre uguale. Peso bomba è super efficace. Su Grimmsnall. Quindi arriva su Grimmsnall. Tranquilli. Sereni proprio. Ammazzami Grimmsnall. Eh ovviamente. Dei fa un po' un danno qua. Dai. La strategia anche nell'ammazzarsi oggi. Falso finale. Si prepara. Un calzo perché mi ammazzerà. E va di. E peso. No. Su Grimmsnall di nuovo. Dai. Su Grimmsnall di nuovo. Adesso la tiene. E fa doppia kill. Crit di sconto. Ah ne fa un'altra giusto giusto. Niente ragazzi. Ascolta. Si prepara di nuovo. Siamo. 13. Poderosi PS. Ma si è fatto una kill. Bravi tutti. Hai fatto tu. Io. Entra dentro al crimi. Bella lì. Per la terza volta. Si. Raga. Cosa volevi dire? Stavo cercando una mossa per vincere. Ma ho appena perso. No. Forse questa la tengo sai. Niente. Eh. Bella raga. E' stato. E' stato. E' stato un'ottima dan battle. Devo dire. Obiettivamente divertente. Perché comunque. Quando tu vinci 3 e 4 a 0. E' sempre. Sempre divertente. Vedere. L'avversario che. Ce la fa. A starti dietro. Alla fine. Noi siamo content creator. Quindi il nostro obiettivo. Alla di vincere e perdere. Quelle sono cazzate. Chi è che ci tiene a vincere o perdere. L'importante è creare uno spettacolo. Secondo me oggi è stato veramente un bello spettacolo. I ragazzi a cazzo saranno stradivertiti. Boh. Che bello vedere Chiara che massacra Sardonia. Senza alcun tipo. Di possibile risposta. Davvero. Unico. Questo. Questo show. Questo spettacolo. La tua seconda vittoria di fila. Altra grande gioia. Perché comunque. E' bello che io vinca. Ma ogni tanto. Visto che comunque. La scorsa stagione. Ho fatto bene. E' bene anche far vincere. Il team avversario. Signori. Questa è la settimana dell'ironia mondiale. Proprio. La istituisco in questo momento. Dio. Madonna. Mi dispiace. Anche a me. Mi dispiace un sacco. Se questo video vi è piaciuto. Lasciate un bel like. Poi lo togliete. Ve lo rimettete in campo. Poi lo togliete. Ve lo rimettete in campo. Non lo fate. Perché poi si bagga. E manga i cani. E non ve lo fa mettere più. Poi noi. Come io oggi. Vi ricordo di scegliere il nickname. Per le nostre squadre. Non integralmente scese in campo. Ma. Chi è che non è sceso in campo? Chi dorme. Sanni. Ragazzi. Quindi già lo sapete come chiamare. Esatto. La prossima volta. Cioè siamo tutti d'accordo. Sì assolutamente. Ok. In descrizione poi vi ricordo che oltre a Star Select avete TT il nostro sponsor di fiducia che vende magliette a tema anime, serie tv e videogiochi col codice sconto giovanone. Avete un euro di sconto su ogni acquisto. Oggi come al solito a doppio appuntamento ci vediamo alle 5 con Safe Zone sul nostro canale Twitch. Mentre alle 21 sul canale di Chichibe con il nostro consueto a martedì. Quindi con me, con Chichibe e con Anzalina. Poggers. La Salida di Chiara è tutto e questo video si autoconcluderà in 3, 2, 1. Invece di uscire entro come i Pokémon.